Report Manager è il tool che consente all'utilizzatore di accedere ai dati archiviati nel Data Warehouse e estraendono le informazioni tramite la generazione di report. Per creare un nuovo report è sufficiente eseguire doppio clic sulla scheda presente nel navigatore relativa al fatto Acquisti, Vendite, Ordini clienti, Ordini fornitori che si intende analizzare. Lo stesso risultato lo si può ottenere cliccando sulla voce Nuovo della casella Azioni specifiche dopo aver selezionato il datamart da analizzare. Si aprirà così la finestra di lavoro di Report Manager posizionata sulla scheda Campi dalla quale, come vedremo tra breve, permette di poter definire gli elementi principali e la struttura che costituiranno il report. Il titolo della finestra di lavoro è formato dal nome del fatto, che corrisponde anche al nome del datamart e dalla dicitura Nuovo report, esempio Vendite, Nuovo report. All'interno del navigatore i report salvati diventeranno sottovoci del datamart a cui si riferiscono. Per aprire un report è sufficiente eseguire doppio clic sulla sottovoce. La riapertura del report salvato comporta sempre l'aggiornamento della griglia Risultato sulla base dell'ultima procedura ETL eseguita. Se si desidera riaprire un report senza eseguirlo, ma in modo da poterlo aprire più velocemente, è sufficiente selezionare il report desiderato, tasto destro Modifica report. Visto che PBI consente di aprire contemporaneamente più finestre di lavoro, è possibile gestire a video contemporaneamente più report. Per aprire una nuova finestra è sufficiente eseguire nuovamente la procedura di creazione vista sopra oppure aprire un report già salvato. L'ulteriore finestra di lavoro si sovrappone a quella che era attiva in precedenza. L'insieme delle finestre aperte va a comporre la barra dei titoli. Per riportare in primo piano una finestra è sufficiente cliccare sul relativo titolo. Le diverse finestre aperte possono essere disposte liberamente, trascinandole dal titolo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. È dunque possibile mettere in primo piano tutte o una parte delle finestre aperte, spostando con la stessa tecnica, o per fare più spazio occultando, anche le caselle laterali, navigatore e contesto. Ciascuna finestra di lavoro contiene una serie di schede che rappresentano la suddivisione logica degli elementi di base che caratterizzano un report. La definizione della struttura del report avviene dunque compilando opportunamente ciascuna di queste schede.